ok ecco qua bellissima fattura pescata guardate qua che magnifica carpona adesso procediamo al rilascio immediatamente con calma guarda la pure tutta seguila pure avvicinati pure col cimano la facciamo un po' rianimare adesso andiamo giù anche noi ecco che se ne va con calma perché ha un pancione esazionato quasi con acqua